E se non esce? Se non esce va a fondo. O se esce la telecamera dall'aereo? Ma no, va tutto bene. E' il regolatore che mi fa occupare. Il regolatore io l'avrei mutandato. Sarà un po' picchiato. Sarà un po' picchiato. Sarà un po' picchiato. Sarà un po' picchiato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.